Siamo dall'Unione Europea. Hai piaciuto il pavillon russo? E' impressionante. Hai notato il pavillon russo? C'era una situazione in Ucraina. Stavo discutendo con mia nascita nascita, se dovremmo andare in o non. Ma lei voleva andare in, per ottenere la stampa. Ma è scoperto ciò che sta succedendo. C'era due pensi, se dovremmo andare in o non. Quindi c'erano dubbi di andare in o non? Sì, assolutamente. C'erano sorprendenti di vedere la grande scelta. Ma sì, c'erano dubbi. E' scoperto. E' scoperto. C'erano un pavillon russo. C'erano un pavillon russo? C'erano un pavillon russo? C'erano? Perché non volevo vedere. Perché la situazione? C'erano? Cosa hai visitato fino ad ora? Giù? Tornato domani, Turkmenistan, Finland, Algeria, Angola, E si potete andare in un pavillon russo? credo che questo da dove sei? da Russia da Russia hai visitato il pavilion? non è ancora non è ancora? vai andare là? ah, c'è una città in l'entranzo sono le solo persone che vogliono andare in Russia ascolti, ho pensato che qualcuno è boicotato la visitazione al pavilion perché della guerra cosa pensi? non credo non credo non lo boicotiamo e questo è tutto non lo so posso chiederti se ti accorgi con Putin o non? perché sei il primo russino che mi metto non posso, non ho politica l'India lì non hai visitato il pavilion russino no ma perché non hai visitato il pavilion sì l'ho visitato prima perché della guerra? sì sì stiamo contro la Russia ok è la tua scuola non hai visitato il pavilion sì l'ho visitato io voglio visitare ti voglio visitare? perché? non lo so? non lo so? non lo so 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 Grazie.